Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' un briefing, un recap di quello che è successo negli ultimi giorni, sia da un punto di vista di analisi ciclica che analisi tecnica su Bitcoin. Andiamo a vedere il calendario dei dati di oggi, perché oggi è il giorno clou di tutta la settimana, quindi andiamo a vedere un po' quello che può succedere. Poi, alla fine del video però, volevo anche mostrarvi una criptovaluta, in particolar modo che una delle prime, ragazzi, la prima che vediamo che conferma la view, in questo caso di inizio nuovo ciclo annuale, proprio a novembre. È la prima cripto che fa questo atteggiamento tra le top, insomma, che guardiamo oggi. E' probabilmente, o possibile anche, che Bitcoin segua questa view proprio nei prossimi giorni. Questa è la domanda, quindi Bitcoin andrà su, sopra i 25-26 mila dollari, perché è l'unico modo per confermare questa view. Prendiamo spunto anche da questa criptovaluta, perché vi farò vedere anche l'atteggiamento che ha avuto, ed è, teoricamente, anche quello che potremmo aspettarci da Bitcoin, se ci conferma quella ipotesi di cui stiamo parlando veramente da un po' di tempo. Allora, iniziamo però con la questione dei dati macro, che oggi sono veramente importanti. Iniziano, orario Italia, insomma, alle 11 con l'IPC, il tasso di infrazione dell'Europa. Ma attenzione a un tasso di infrazione inferiore alle attese, ancora molto alto in Europa il tasso di infrazione, ragazzi. Quindi, un tasso inferiore alle attese sarà preso sicuramente abbastanza bene dal mercato. Vi ricordo che comunque i mercati finanziari reagiscono ai dati europei in maniera estremamente ridotta rispetto alle reazioni che hanno, invece, sui dati di natura USA, quindi USA. In ogni caso, è alle 11 orario Italia, assolutamente importantissimo andare a controllare questo dato. Poi abbiamo una serie di dati di cui, secondo me, uno dei dati importanti è l'ISM, in questo caso dei direttori d'acquisto, quindi il manifatturiero, il settore manifatturiero, che indica un inferiore al 50, quindi una recessione, anche se non è bassissimo, ed è simile al precedente, anche il dato previsto. Vediamo se è peggiora o migliora. Non ha una super rilevanza, però io lo guarderei perché, come vi dicevo, nell'anno 2023 la cosa più importante sarà monitorare gli indicatori macro che ci danno una indicazione sulla possibile recessione del 2023. Sembrerebbe che ci sia questo soft landing, al momento molti stanno virando verso queste ipotesi di cui parliamo da dicembre. Ci sono una serie di motivi che mi hanno fatto anche propendere per questa possibilità, che è remota, devo essere sincero ragazzi, è difficile che avvenga, però in alcune specifiche situazioni può avvenire nel sistema economico. Questa era una di quelle in cui questa possibilità potrebbe anche esserci, quindi andremo a valutarla. Attenzione perché è un soft landing e quindi un'economia che non ha una... degli Stati Uniti che non ha una recessione molto forte sarà possibilmente vista molto bene. Secondo me non tanto per le borse hold, che saranno calmerate comunque dal presidente Powell, ma per lo più per le cripto, perché a noi interessa poi anche quel settore per una serie di motivi. Ne parliamo comunque nei prossimi mesi e intanto ne parliamo poi se dovesse avvenire questa cosa e ci saranno dati più oggettivi. Insomma al momento non è così evidente, quindi è inutile parlare di ipotesi che poi non stanno in aria, non stanno né in cielo né in terra. Allora, scorte di petrolio invece alle 16.30, anche questo è un dato interessante come sempre, e poi la decisione del FONC che palesemente ragazzi alle 20 orari d'Italia indica un rialzo dei tassi dello 0.25. Attenzione perché in pratica quasi tutti gli operatori istituzionali pensano che il rialzo sarà dello 0.25. Vi faccio vedere i dati. Ecco ragazzi, allora, abbastanza evidente in questo caso la probabilità del rialzo dei tassi di oggi è al 98.4% con un rialzo di 0.25%, quindi 25 basis point, non 1.5. 4 c'è ancora, ma è l'1.6. È veramente praticamente un pebbricito nei confronti di un rialzo dei tassi di interesse che sarà probabilmente dello 0.25. Credo che questi dati, e lo ribadisco, secondo me in questa fase potrebbero creare una leggera volatilità dei mercati ma solo di natura temporanea di breve, quindi speculazione classica che potrebbe avvenire in un lasso di tempo molto breve e poi riportare tutto dove era precedentemente o nel trend che il mercato stava facendo in quel momento. Perché questo ragazzi? Perché sostanzialmente a meno di gravi e di cambiamenti che Paolo potrebbe dire nella sua conferenza stampa adesso vi dico anche quali, secondo me tutto quello che avverrà oggi è già scontato dal mercato già le news hanno un impatto sui mercati relativo, quindi non eccessivamente alto nel caso specifico invece nel momento in cui noi andiamo ad avere dati già scontati probabilmente i mercati non agiranno in maniera eccessiva da questo punto di vista. Un'altra cosa, se invece Paolo dovesse indicare nella conferenza alle 8.30 orario Italia che l'economia si sta indebolendo, quindi indicare una strada eccessiva con paura oppure indicare che l'inflazione purtroppo ancora si fa sentire in maniera importante che quindi nei prossimi mesi avremo un'inflazione ancora galoppante e dovranno alzare i tassi in maniera continuativa, allora i mercati la prenderanno male ma solo esclusivamente in queste due ipotesi, cioè ipotesi che sono attualmente non scontate dai mercati. In tutte le altre ipotesi, cioè sul fatto che Pago il Dica non abbasseremo i tassi assolutamente nel 2023 è ovvio che sarà così, lo diciamo da un anno, dica che insomma stanno cercando di controllare insomma le solite parole che ha detto finora, non cambierà assolutamente niente secondo me ci sarà un po' di up and down ma naturalità di quello che sono i trend attuali naturalità che ci porta al famoso ciclo mensile di Bitcoin. Allora qui c'è stato un minimo proprio nella giornata del lunedì in pratica mentre stavamo registrando il precedente video che l'ho fatto quando ero in aereo praticamente, in pratica ragazzi. Allora qui vi faccio vedere sostanzialmente una possibile chiusura a 30 giorni e un po' poca perché la precedente fase del bisettimanale di Bitcoin è stata di 19 giorni in particolar modo questa giornata qui è un po' corta per essere anche una chiusura mensile sul Nasdaq 100, teoricamente ragazzi io la vado sempre a posizionare tra il weekend di questa settimana 38 giorni, un po' lunghetto però ci sta, come vedete anche la media mobile di cui avevamo parlato proprio nel video di lunedì, video che ragazzi mi scuso si sentiva molto male ho registrato con le cuffiette dell'iPhone ma evidentemente non funzionano benissimo adesso sto registrando, il Mac dovrebbe andare un po' meglio, non benissimo perché non ho il microfono quello professional ma un po' meglio e come vedete in questa zona si è bloccato la fase di ribasso quindi la media ha funzionato da supporto come dicevamo in quel video anche questa zona probabilmente funzionerà da supporto se dovesse continuare questa fase di bassista a dire la verità un po' io mi attendo questa lateralizzazione e poi una chiusura o con un minimo inferiore a questo livello 22,5 o comunque super giù intorno a quella cifra certo è ragazzi che in questo momento non è importante riprendere subito a salire ma è importante che Bitcoin stia all'interno di questa fascia che faccia un'oscillazione laterale che non vada in pratica a crollare, questo sostanzialmente è importante in questa fase cioè non vada a scendere sotto livelli importanti per esempio sotto i 21,2, sotto questa media mobile insomma la media mobile a 21 sarebbe molto pericolosa in quella fase quindi in questo momento secondo me siamo ancora nella chiusura del ciclo mensile fatto è che se dovesse partire un candelone verde ragazzi perché il trend è palesemente rialzista in questa fase non mi meraviglierei quindi da un punto di vista di trading proprio giornaliero magari è possibile in questa fase attendere un po' e poi rientrare ma parliamo di intraday trading da un punto di vista di position un po' di medio periodo la posizione è sempre la stessa di dicembre cioè long punto cioè non c'è niente da fare poi se inverte scende ad esempio sotto la media a 21 e in maniera un po' più considerevole rispetto al semplice touch allora magari si può tentare poi di chiudere l'operatività anche sul nasdaq vi faccio vedere che manca qualche giorno quindi sembrerebbe proprio che oggi il mercato la prenda male con i dati macro io sto registrando questo video orario italia molto presto quindi insomma vedrete che insomma la giornata sarà probabilmente non so concitata oppure manca un paio qualche giorno insomma sempre il 6 di febbraio per avere i famosi 30 giorni eventi candele per quanto riguarda nasdaq che comunque sono anche cortine già 30 sono cortine ragazzi perché sono solo 20 candele si può andare tranquillamente anche a giovedì prossimo quindi per questo mi sembra che la chiusura che ha fatto bitcoin sia un po' prematura sia l'ultima fase del ciclo mensile probabilmente di bitcoin allora detto questo volevo farvi vedere poi quello che era il super grafico di oggi la cripto che per la prima volta praticamente ci fa quello che bitcoin potrebbe fare qui vi faccio vedere sul bitcoin quello di cui stiamo parlando cioè breccare questo livello di price e 25 mila barra 26 questa zona che vi ho indicato qui tutto questa fascia è una fascia di oscillazione in questa fase fase qui potrebbe farlo quando ragazzi probabilmente nel nuovo ciclo mensile perché se fa un nuovo ciclo mensile proprio in questa fase alla chiusura nel prossimo app potrebbe tentare il breakout definitivo indicando a quel punto che dalla minimo di novembre è iniziato il nuovo ciclo annuale ma questa cripto l'ha già fatto e ve la faccio vedere qui ragazzi parliamo di phantom che proprio nelle scorse giornate ha fatto il la breakout del livello dei massimi di agosto 2022 e facendo questo ha indicato che dalla novembre del 2022 nel caso di phantom dovrebbe essere il 20 adesso vi faccio uno zoom 22 scusate eccolo qui 22 non è molto rilevante io questi grafici ha spesso poi li vedo anche sul time frame weekly devo essere sincero perché mi piace di più andare a guardare non troppo zoomato questi cicli troppo lunghi ed ha indicato in maniera palese la chiusura del ciclo annuale lì ragazzi cioè un ciclo annuale che è durato circa 490 giorni un po lungo per essere un ciclo da cripto però vedete ne ha iniziato il 20 di luglio 2021 e l'ha chiuso esattamente a novembre questo è l'atteggiamento che potremmo vedere su bitcoin vi faccio vedere il grafico più meno zoomato ed è un atteggiamento interessante da guardare perché la stessa cosa potrebbe avvenire proprio su bitcoin con il breakout di questo livello dei massimi sancisce l'indicazione che dai minimi di novembre è iniziato un nuovo ciclo annuale per phantom phantom che ha fatto tutta la sua struttura ribassista divisa in tre sottocicli quindi un annuale lungo ma non lunghissimo ricordo che gli annuali di bitcoin sono intorno ai 450 giorni quelli standard poi perché 450 perché gli annuali normali sono più o meno un anno ma un anno di borse aperte corrisponde a 420 giorni circa di bitcoin perché un anno di borsa aperte considera anche il concettualmente il fatto che non ci siano i sabati e le domeniche allora poi ragazzi si possono anche indicare come due annuali questi qui però io preferisco ragionare in termini dei cicli dell'alving di bitcoin perciò per me questo è un singolo annuale però mi cambia veramente poco se volete considerare due annuali fatelo lo stesso però un po senza senso non considerare 250 giorni un annuale con sabati e domeniche aperte perché insomma e 250 potrebbe essere un annuale delle borse old classiche perché hanno appunto 250 bar in quel caso non giorni perché poi alla fine se sommate arriviamo all'anno classico del calendario insomma non ci perdiamo in queste sottigliezze di natura ciclica ma è interessante invece lo specifico perché alcuni mi scrivono anche poi nei commenti ma è irrilevante insomma fate i calcoli come dalla vostra tecnica però teoricamente questo è nei cicli dell'alving si ripetono gli annuali così di bitcoin e noi lo consideriamo in questo modo il breakout di questo livello di 0.42 circa di phantom sancisce l'inizio di uno ciclo annuale quindi tre sottocicli per il precedente 146 182 162 sono tre cicli semestrali che compongono uno sono un semestrale corto un altro semestrale più o meno corto è l'altro standard che compongono in pratica il ciclo annuale di phantom vedate anche la struttura come evidente proprio la ripetitività della struttura ciclica anche su phantom che era uno di quelle critto che aveva veramente perso tantissimo se non che è iniziata questa nuova fase paese ed evidente e dove siamo siamo nel nuovo ciclo sicuramente da 150 barra 100 200 giorni perché perché dipende se sarà ternario anche questo ciclo annuale oppure sarà di natura binaria quindi se di natura binaria potrebbe essere anche più lungo questo ciclo al momento è bellissimo vedere phantom in questo momento perché ci dà scusate la ripetizione per ci dà una immagine di quello che potremmo vedere su bitcoin poi ragazzi che significa questo nuovo ciclo annuale che da qui saliamo andiamo in burran no significa che la fase che è stata quella iniziata ribassista da ottobre 2021 a novembre 2022 termina qui e che da questo punto in poi è iniziata una nuova fase poi nulla vieta che questa nuova fase sia anche essa ribassista che magari faccia una cosa del genere poi crolli inesorabilmente come aveva fatto questa qui allora la fase di natura ciclica e ribassista dell'anno scorso è terminata in questo punto da qui iniziata una nuova fase questo è un dato anche scientifico di natura statistica perché è stato superato il precedente swing a rialzo ciò significa che se ragionate in termini statistici questa in breakout sancisce l'inversione di questo trend di tutto questo trend perché a livello statistico matematico è in questo modo ragazzi quindi qui il trend precedente non esiste più questo è l'informazione che abbiamo siamo in una nuova fase allora phantom solitaria cammina anticiperà bitcoin vedremo questa cosa anche su bitcoin ea quel punto dovremmo fare dei conti specifici perché c'è una più una più incredibile una più molto bella che va a chiudere racchiudere all'interno diverse cripto non solo bitcoin non solo phantom ma che tiriamo per esempio e ci dà una data una data un po lontana ma non tanto lontana una data sinergica che è estremamente rilevante per tutto il mercato delle cripto se bitcoin farà il breakout del livello di resistenza che vi ho detto poi andremo a parlare anche di quest'altra data ragazzi una data un po lontaruccia devo essere sincero ma che dovrà attirare la nostra attenzione nei prossimi mesi nelle prossime settimane in maniera estremamente rilevante perché quella sarà una data sinergica quindi al momento volevo farvi vedere questo grafico è tutto qui ragazzi poi chi di voi dovesse essere long su phantom può continuare il trend abbastanza delineato a dire la verità poi bisogna vedere le operatività che andate a costruire perché magari se fa anche una cosa del genere potremmo avere un annuale che magari spinge anche nella seconda parte però del semestrale però questa cosa qui ovviamente andrà vista perché non si può fare una previsione un po campata in aria no a distanza di molti molti mesi sicuramente nella prima fase del ciclo annuale la fase di spinta è abbastanza importante quindi valutate anche voi se avete delle pressioni lunghe allora aspettiamo bitcoin settimana prossima dopo la chiusura di questo mensile se riuscirà a fare questo breakout voi che ne pensate fatemelo sapere ovviamente nei commenti ciao a tutti grazie